Buonasera, buonasera da YouNews, oggi una giornata particolare, allora intanto mi perdonerete per il look e per i capelli veramente usceni, purtroppo sta piovendo oggi e involontariamente mi sono trovato sotto l'acquazzone, quindi diciamo dovrete farvene una ragione, e anche perché è un po' una giornata di merda questo mercoledì, perché stamattina c'è stato, almeno non so se sta continuando tuttora, l'intervento al Senato per quanto riguarda la mozione di sfiducia per Alfonso Bonafede, argomento trattato e ritrattato più e più volte su questo canale, ma ancora più in particolare da Andrea Scanzi, che vi consiglio di seguire se volete, diciamo, un giornalista che è imparziale e che vede le cose così come sono, sostanzialmente che cosa succede? Che appunto ci siamo visti questa, cioè mi sono visto questo intervento alla Camera del Senato, dove appunto si presentavano due, non più una, ma due mozioni di sfiducia, dicendole in breve, una presentata dal centrodestra, dicendo che le scarcerazioni appunto sono volute appunto da Bonafede, in quanto colluso con la mafia, vi fa tutto il fatto di Nino Di Matteo, che avrebbe chiamato Giletti, e ne ho già parlato, quindi sostanzialmente la loro visione è di essere troppo permissivi. Dall'altra parte la Bonino, la Bonino che invece fa quest'altra sfiducia nei confronti di Bonafede, esattamente opposta, quindi dicendo che è troppo garantista, quindi sostanzialmente troppo rigido nei confronti dei detenuti. Quindi, quindi già, sapendo queste due visioni, queste due emozioni di sfiducia in atto, sembra abbastanza una comica quella che è stata oggi, perché se ci fosse stato un motivo valido per poter sfiduciare Alfonso Bonafede, oggi non è stato trovato, perché quello che ho sentito dal centrodestra, con tutto il rispetto che ho per il centrodestra, è la solita manfrina. Solita manfrina perché? Perché già ci sono state altri due interventi, una alla Camera dei Deputati, se non sbaglio, e l'altra sempre al Senato, che se ne parlava già di questo fatto, della sfiducia a Bonafede, di quello che avrebbe secondo loro fatto. E sentire le stesse cose via via ogni volta, dicendo che Bonafede non sapesse delle intercettazioni quando ha chiamato Di Matteo e che lui le avrebbe rese note, è sbagliato, perché più e più volte Bonafede nei suoi due interventi ha detto che al Ministero di Giustizia queste intercettazioni, ma in realtà erano semplicemente dichiarazioni fatte, poi registrate e annotate dall'autorità giudiziaria, cioè, sì, giudiziaria se non sbaglio, dei vari carceri, sostanzialmente queste erano già note al 9 giugno del 2018, ben prima della famosa chiamata a Di Matteo, quindi una fandonia. E questo argomento si è più e più volte ritrattato ancora di più. Quindi ho sentito un paio di interventi, io mi sono appuntato semplicemente un paio di nomi, intanto Marco Pellegrini del Movimento 5 Stelle ha fatto un ottimo intervento, Franco Dalmas di Forza Italia sembrerebbe nell'intervento, ora non so se ricordo molto bene, però mi sono trovato alcune volte anche d'accordo in quello che diceva, quindi sembrava dal suo punto di vista non esserci in atto questa sfiducia, e dall'altra parte poi un grandissimo Gianluca Perilli, sempre del 5 Stelle, che ha demolito in tutto e per tutto questa fantomatica mima della sfiducia nei confronti di Buonafede. E io vi consiglio di vedere questo video, mi metterò un link qua sotto così vedrete un po' quello che è stato detto da lui, accusando anche la Lega, dicendo che quando c'era la spazza Corrotti, quando fu fatta la spazza Corrotti, c'erano loro al governo insieme al 5 Stelle, e di conseguenza perché è tuttora questo clamore nei confronti di Buonafede? Oltre che devono capire che tutti questi individui che chiedono giustizia, che giustizia vuole essere fatta, in realtà deve essere chiarita ancora alcune cose, come ad esempio quei famosi 49 milioni che la Lega abbia, diciamo, preso come finanziamenti per le loro campagne elettorali, quindi sostanzialmente un casino, e si è chiarito un po', cioè si è cercato di fare chiarezza anche in merito a questo. Ma la cosa più spettrale di questa giornata, perché poi ho sentito anche Buonafede, il suo intervento è stato molto lungo, molto lungo, però ha chiarito ancora una volta, e mi dispiace per quest'uomo, perché si ritrova più volte, è come se un individuo è accusato di qualcosa, lui dà la sua versione dei fatti, è verificabile, è verificata perché è tutto registrato al ministero, cioè è campata in aria questa accusa, e si ritrova ogni volta puntualmente a dover dare spiegazione a questi individui ogni volta sulle stesse cose. Ma cosa vogliono sentirsi dire questi? Cosa vogliono sentirsi dire? La realtà dei fatti è che questo li brucia il culo a questi qui. Perché quando i Cinque Stelle appunto erano all'opposizione, loro facevano più o meno la stessa cosa, ma erano per situazioni diverse. Ed ecco a questo, io mi vorrei collegare a quello che è successo. Italia viva e Renzi, mannaggia la miseria. E poi dopo questo argomento chiudiamo il video. Che è successo? Che in questi giorni alleggiava la notizia, l'ipotesi di una crisi di governo. Notizia che avrebbe creato un allarmismo generale. Perché sostanzialmente aprire una crisi di governo nel bel mezzo di una crisi economica, sanitaria, tutto quello che è in esso stesso e connesso, vorrebbe significare innanzitutto mancanza di decisioni future, immediate. Perché il governo può essere anche non il miglior governo che c'è stato nella storia repubblicana, questo indubbiamente. Però loro almeno hanno delle linee guida da seguire che bene o male dovranno continuare a seguire. Se questi ad esempio vengono, c'è una crisi di governo, a parte il fatto che non c'è una coalizione tale da poter governare il paese, ma al massimo ci dovrebbe essere un governo di grande intese. E questo significherebbe, come ho già detto più volte, decisioni lente, accordi molto più lunghi e mediati, quindi immaginate un PD che si deve adeguare a quello che dice la Meloni o ad esempio la Lega che deve adeguarsi a Zingaretti e compagnia bella, a Renzi che comunque sembra più là che qua. Quindi sostanzialmente è un casino. Quindi tutti possono dire che il governo di adesso può essere anche incapace, cosa che io non condivido in tutto e per tutto, però sostanzialmente quello che va visto nel quadro complessivo è che se si avvia una crisi di governo in questo momento è la fine dell'Italia o almeno è la presunta fine dell'Italia perché le decisioni saranno molto più lente, molto meno mirate e vedremo un po' come saranno i risultati. Però io non voglio parlare di una eventuale ipotesi futura. Quello che voglio dire, l'intervento di Renzi. Perché Renzi, da quello che ci ha fatto capire oggi, è come se innanzitutto ha fatto una grandissima leccata di culo, ma io veramente quest'uomo non lo capisco, cioè lui veramente dice di non voler fare populismo, ma lui fa un certo senso populismo, ma lo fa in maniera consapevole, intelligente, perché lui, avendo il 3% come voti, sicuramente non gli conviene fare una crisi di governo attualmente, per come stanno i fatti, perché non avrebbe i voti necessari per poter far parte di una coalizione o avere un'importanza strategica in quella coalizione che si formerebbe. di conseguenza che fa lui? Lui che ha formato, lui che è stato complice della formazione di questo governo, ogni volta, puntualmente, si mette sempre lì, zizzagnoso, a voler criticare, a voler essere più di destra che nel governo stesso, criticando che non è, cioè dico, è lecito, ma ogni cosa che si fa, ogni volta c'è una critica, e ogni volta è una discussione, ogni volta è una cosa, ogni volta è un'altra cosa, quindi Renzi ha rotto le scatole, per non dire altro, e ci ha fatto capire da questo grande intervento, sostanzialmente, che è come se fosse un ricatto quello che ha fatto, perché secondo la concezione di Renzi, diciamo, io l'ho tradotto in questo senso, voi, 5 Stelle, voi governo in generale, dovete dire grazie che io, il grande paladino Matteo Renzi, non vi voto contro la fiducia a buona fede, perché lo potrei fare, però non lo faccio, perché io quando, cioè, non faccio come voi 5 Stelle, che quando eravate all'opposizione, per, ogni volta chiedevate giustizia, nei confronti di determinati individui, a parte il fatto che, dall'intervento di Scanzi, che ora, gli individui non me li ricordo, del centrodestra, o dei Renziani che furono, non me lo ricordo, però, da Andrea Scanzi, in quell'invido di 5 minuti, che vi metto qua sotto, sempre capirete bene l'argomento, ma il discorso è che, da quello che ho capito io, è che il suo è una specie di ricatto, quello che sembrerebbe essere in atto, e che Renzi, voglia trattare con il governo, dopo la proposta, quella sulla regolarizzazione dei braccianti, e quindi degli immigrati in quel senso, che per me è una cosa giusta, e infatti io non capisco come, un ministro come la Bella Nuova, che sembra anche essere sincera, onesta, intellettualmente corretta, e capace di poter fare il suo lavoro, possa trovarsi in uno stesso partito, e con quell'individuo lì, con Renzi, cioè, è il massimo che ti puoi trovare, non riesco a capire questo macro argomento, come possa essere possibile una cosa del genere, e come fanno ad andarle ancora dietro, quindi, da quello che si è capito, e vedremo se nei prossimi giorni, nelle prossime settimane sarà così, Renzi non ha votato la sfiducia a Buonafede, non perché non lo volesse fare, perché per lui, se il partito, se l'Italia Viva fosse stata al 10%, o quello che potrebbe essere, sicuramente avrebbe fatto la crisi di governo, e ci avrebbe mandato a votare, perché lì sarebbe convenuto, ma, lui avendo il 3%, non gli conviene aprire una crisi di governo, va bene, far notare gli errori, che presunti errori, ecco, del governo, quando in realtà il governo, fin troppo ha ascoltato Italia Viva, tant'è che gli ha concesso anche il fatto dei migranti, e sembrerebbe anche che, avesse proposto Renzi, la Boschi come ministro, e quindi, diciamo, un inserimento all'interno di cariche istituzionali, note, importanti, nel bel mezzo di una situazione critica, come quella del Covid-19, quindi, approfittando di questa situazione, per fare i suoi porci comodi, e mettere i suoi membri del partito come ministri. Cioè, bravo, bravo, se questa è umanità, se questo è valore politico, intellettualmente onesto, quello che intende Renzi, io preferisco, non guarderei più questo individuo, preferisco, io veramente mi auguro, mi auguro veramente, che se ci dovessero essere veramente le elezioni, Renzi finisce nel dimenticatoio, o che il partito Italia Viva, perché alcune idee che hanno proposto, sono anche intellettualmente intelligenti, e non per merito di Renzi, questo è poco ma sicuro, possano intellettualmente svegliarsi da Renzi, staccarsi, e magari farlo fuori, perché questo individuo, non aspetta altro, che si ricominci nuovamente, con quello che successe nel 2016, facendo i suoi porci comodi, perché noi italiani, come ho già detto in altri video, siamo bravi a ricordare, e a denunciare le cose subito, ma tendiamo molto spesso, a dimenticare le cose passate, recenti passate. Grazie per aver visto un video, lasciate un like se vi è piaciuto il video, un commento ovviamente costruttivo, in modo tale che possiamo, aprire un dibattito in merito a questo, e se avreste diciamo, notizie in merito a quello che poi è stato, e quello che si è detto in questi giorni, fatemelo sapere sempre nei commenti. Grazie.